Tre casi inagibili e residenti evacuati per precauzione. Dopo il crollo di un tratto di strada in via dei Borgoggelli a Fano, proseguono i lavori per ripristinare la rottura alla rete idrica, che ieri ha provocato una voragine larga circa 2 metri e profonda 1. Nel telegiornale Occhio alla Notizia delle 20 e 30, il vice sindaco Cristian Fanesi aveva spiegato che, come spesso accade in centro storico, il sottosuolo riserva molte sorprese. Una voragine abbastanza ampia, ASET e il Comune di Fano stanno facendo le indagini che servono anche per capire cosa sia successo, però è una voragine piuttosto ampia che ci ha dovuto far chiudere la strada e ha dovuto far allontanare i residenti solo a titolo precauzionale per mettere in pristino tutto quello che è la sicurezza dell'abitazione, prima di tutto oltre che della strada. Dunque proseguono le indagini da parte di ASET e del Comune di Fano, mentre la strada, che è stata transennata ai due lati, resta chiusa a veicoli e pedoni. Presidente, ieri ASET che lavori hai eseguito e qual è ad oggi la situazione? Ieri intanto abbiamo fatto il sopralluogo per capire bene qual era la realtà dei luoghi. Lì abbiamo subito visto praticamente quello che ci aveva riferito in pratica la squadra che aveva operato sul posto per questa rottura. Abbiamo visto che è avvenuto davanti a una casa di fila, vuol dire che ci sono altre due case di fianco che fortunatamente una risulta non abitata e non risulta abitata neanche quella centrale, quella che a prima vista ha avuto il danno maggiore di stabilità. A questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato intanto la disponibilità ai signori che stanno nell'unica di queste tre dimore che hanno occupato una di queste tre dimore di poter provvedere anche ad un stazionamento in albergo per il periodo nel quale si creeranno dei disagi dovuti alla ristrutturazione e quindi al rifacimento del manto stradale. Adesso abbiamo visto praticamente il problema qual è. C'è questa massa, c'è questo vuoto che è stato individuato e probabilmente sarà stato creato in seguito al dilavamento o delle fogne o dalla rottura delle fogne oppure dell'acquedotto. Quindi a questo punto non facciamo altro che mettere in sicurezza intanto le tre case, perché da un punto di vista strutturale sembra che i pavimenti non abbiano ceduto perché erano appoggiati lateralmente su tutto il perimetro delle tre abitazioni. Quindi metteremo in sicurezza innanzitutto le abitazioni poi risalderemo praticamente tutta la rete che c'era al di sopra del manto stradale e chiuderemo anche il manto stradale. Quindi questo è quello che abbiamo intenzione di fare. Non abbiamo timori in proposito perché ci sembra un'operazione estremamente lineare quella che si va a fare, quindi non è che ci sono timori ulteriori di altri croli o quant'altro. Quindi questo ci approponiamo a fare in questi giorni. Non so se i tempi sono in 10-15 giorni, vedremo.